Culturali tra Italia e Croazia, due cose estremamente importanti. Purtroppo io non voglio superare i cinque minuti che ho detto che devono essere rispettati da tutti. Quindi io, prima di tutto, che la voce di Agoda, che naturalmente meriterebbe un'intera ora di commento, è una sorpresa straordinaria. Perché se è vero che io conoscivo Agoda, niente meno che da una trentina d'anni, mi dispiace di invecciare, non solo per mancare lei, ma insomma, il fatto di mantenere un'amicizia per trent'anni non è una cosa da poco. E infatti valeva la pena, perché non mi sarei mai immaginato che Agoda riesgisse a diventare non una costruista, non una decorativa, non una rappresentante del sesto epinile adatto alla cultura, ma addirittura un'architetta della tappezzeria. Le sue non sono soltanto sculture, sono architetture che riempiono gli spazi delle botella in un modo che non avrei assolutamente immaginato. Conocevo le sue opere minori, ma vedere di fronte a me delle vere e proprie torri, dei veri e propri monumenti, oltre ai vari eventi piccolari eccetera, devo dire che mi ha impressionato moltissimo. Quindi spero che questa mostra di Agoda possa venire anche a Miano, a Torino, perché merita di essere conoscuta in tutta l'Italia. Mi dispiace di non potermi soffermare di più su Agoda, che però voi avete a vostra disposizione. Quindi è meglio vederla che sentirla parlare. Due parole almeno per questo incontro Italia-Croatia, che mi fanno una cosa estremamente importante, perché i buoni rapporti per i due paesi sono sempre esistiti, però il periodo fascista ha tagliato lente quello che erano questi legami. Mi ricordo che mio nonno Patelto, direttore della cultura della provincia, telefonava con i mesi al suo corrispondente di Dubbiana e a quello di Zagra. Anzi, Zagra, come si diceva allora. Quindi allora, quando io avevo 8-10 anni, si parlava continuamente di Agra. Tanto più che una mia profsia aveva scolato un agramese, oltretutto, per sua fortuna, possessore di due o tre palazzi nella inizia. Per cui già allora io andavo spesso a Tarabria a vedere, non a vedere i due palazzi, ma a vedere le bellezze della città. Questo pubblicamente per parlare dei fatti giocchi. Ma a vedere quello che si portava, è appunto lo scambio delle culture tra Croazia e Italia e la provincia tra Slovenia e Italia. Lo studio di queste lingue, che una volta durante l'impero, era non obligatorio, ma frequente. Allora, appunto, ricordo che mia nonna parlava di Rosolino, di quei concambini che avevamo a Corizia. Oggi questo non avviene. Mi è successo di andare a Corizia e da certamente, a trovare quei 20 concambini di poleri che non c'erano più a me. E allora, dicendo in due parole, di Slovenia, cattostati da questo esempio, ho visto con soddisfazione che esiste anche un rapporto linguistico sopravvissuto. Non voglio... Eh? Quindi la Previtas è sempre presente. Tra l'altro, Gillo, tu sei nel 1910. Sì, 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 quindi il mio nonno era nel 1910, ecco, quindi purtroppo è mancato, ma da poco, ma mi fa piacere ricordare come anche lui e come anche poi invece mio nonno parlassero, oltre al cristino, naturalmente, il croato e il tedesco come lingue del cuore. Quindi questo a provare quanto importante è quello che ci ha detto adesso il maestro Donires.